mi chiamo pastore giuseppe luigi 61 anni sposato tre figli adottivi dal 2006 abito nella parrocchia di bulgaro grasso decanato di appiano gentile e mi candido per il settore adulti precedentemente stavo a brugherio dove sono stato presidente parrocchiale e responsabile decanato della cr e poi responsabile di zona della zona di monza sempre della cr membro dell'equipe diocesana della cr nel periodo in cui c'era don vincenzo don francesco vitari don vincenzo di mauro e sostanzialmente sono ancora attivo lavoro sono libero professionista tenerevo alimentare e appunto consulente e poiché figli sono grandi penso di poter dare qualcosa alla c